Toccante e non poco la telefonata che ci sarebbe stata alla via in diretta, il programma di Roino condotto da Fialdini e Tibia e Chimperi, in cui Stefania Hollà e Stefania Sandrelli avrebbero ringraziato pubblicamente l'amata figlia Amanda per essersi dedicata al film Cristina, nonostante stesse passando un momento non facile della sua vita. Telefonata dunque Toccante, ripeto nuovamente, piacevole, a sorpresa all'interno di la vita in diretta condotto magistralmente da Tibia e Tibia e Tibia e Chimperi e Cristina Fialdini. Io credo che questo affetto quando si verifica anche in tv sia un affetto genuino, puro, nobile e autentico, questo chiaramente è il mio parere. Quindi grazie per l'ascolto, il video termina qua, questo video non vuole lei della privacy né di Stefania Sandrelli né della sua amata figlia, ma sono informati ed eventuali personali, nel pieno rispetto della sua persona e della sua privacy. Iscrivetevi, commentate, al prossimo video da Narratore Italiano